Probabilmente sperava di fare il colpo della vita e il rapinatore è entrato in azione a martedì sera nella farmacia Peschiulli di Piazza Santissima Adolorata a Racale e arrestato poco dopo. L'uomo armato di taglierino e con il volto travisato da mascherina e cappuccio ha anche preso in ostaggio una delle commesse sperando di essere accontentato nella richiesta. Ma di denaro in cassa ce n'era poco per le sue aspettative. Non si dava per vinto, ha più volte insistito e non si è fermato neanche davanti alla reazione del titolare, un uomo di 70 anni che ha tentato di far desistere il rapinatore ma è stato strattonato con violenza. Sentendosi alle strette ha preferito fuggire con quanto racimolato. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Casarano che in breve tempo, dopo aver analizzato i filmati delle telecamere, hanno fermato l'uomo, riconosciuto anche dagli abiti e ristretti a domiciliari, ha raccontato di aver agito per disperazione.